Amici di Android Blog, Wiko Wax che sta girando questo video, andiamo subito a tentare un controluce nonostante le nuvole, poi andiamo a posizionarci a delle luci più normali, aspettiamo l'adattamento, cominciamo a camminare come di consueto per vedere la stabilità del video, stabilizzazione software attiva per questo video, andiamo ad avvicinarci al nostro vaso di fiori ormai sfiorito per vedere l'adattamento al fuoco, poi spostiamoci a distanza normale, aspettiamo ancora l'adattamento, muoviamoci velocemente verso destra e poi verso sinistra, proviamo a fare uno zoom, zoom che c'è ovviamente digitale fino a 8x, torniamo indietro per questo video girato dalla camera da 8 megapixel alla risoluzione massima di 1080p di Wiko Wax